Più che una mostra di prodotti artigianali, quella allestita nel Giardino Corsini a Firenze è una mostra di artigiani al lavoro. Nascosti tra gli agrumi e le splendide limonaie di una delle ville secentesche più belle della città, i 91 maestri artigiani italiani e stranieri selezionati appositamente per questa che è la ventesima edizione dell'Esposizione Internazionale, fino al 18 maggio metteranno in mostra le loro professionalità svelando in parte i loro segreti. Un mondo a parte quello di Palazzo Corsini dove la crisi di un settore in oggettiva difficoltà sembra non trovare spazio. Ad Artigianate Palazzo si può comprare ma soprattutto si può conoscere delle persone con cui creare un rapporto, magari anche nel futuro farsi realizzare delle cose su misura per la propria casa, per se stessi. Quindi io invito le persone a venire ad Artigianate Palazzo prendendosi del tempo perché è una mostra piena di segreti. Tra le novità più interessanti di quest'anno, oltre a quattro lezioni di cucina familiare aperte al pubblico, ci sarà la possibilità di vedere al lavoro dieci giovani artigiani accuratamente selezionati, i cui lavori saranno poi recensiti da dieci blogger internazionali. E poi spazio alle piume di Mazzanti, ai cestini di vimini intrecciati da giotto scaramelli, agli orecchini in tessuto, ai cappelli più particolari. Un mondo di arti e ai mestieri di cui la padrona di casa Giorgiana Corsini si è circondata da sempre. Io ho sempre avuto bisogno di artigiani, li ho ricercati, ho fatto molta amicizia, ho imparato tantissimo da loro, ho capito quanta storia e quanta cultura c'è nei loro mestieri. Artigianato e palazzo però è anche beneficenza. All'asta organizzata durante la prima serata sono stati infatti raccolti quasi 20.000 euro donati all'Associazione Itaca. Tra i premi, un'ora di lezione di violino con Dario Nardella, pagata 350 euro.